La Pieve 0-10 vince e respira, il Castello Ostiano perde nel finale e rimane in piena zona rossa. Anche qui, come a Castelvetro, decisivi i minuti conclusivi del match, con la squadra di Ferranti che recrimina per i due gol subiti, ma che, a dirla tutta, non ha mai impensierito con Piani puntando allo 0-0, quando è così difficile arrabbiarsi per il K.O. Da un'uscita così-così di Raimondi, la sfera giunge a Pedrini, che però non trova il gol maradoniano. La manovra della Pieve è avvolgente, ma anche dall'altro lato dell'area al momento del dunque manca qualche centimetro sempre a Pedrini. La squadra di Grignani prova ancora a castigare gli affanni ospiti, ma il tentativo di Fornasari, stavolta, è più che altro pretenzioso. Molto più solida la conclusione di Pedrini, sempre lui, che impegna stavolta il portiere. La Pieve pressa altissimo e proprio su un pallone esarradicato Fornasari si costruisce una buona opportunità, calciando però debolmente. Gara a senso unico, Raimondi si incarta in uscita, ma nessuno riesce ad approfittarne tra i locali. È un match anche cattivo, dove iniziano a volare colpi proibiti da una parte e dall'altra. Ma nella parte più interessante del tabellino, quella dei gol, non arrivano a notazioni e si va al riposo sullo 0-0 decisamente stretto per la Pieve 0-10. La squadra di casa insiste nella ripresa, mettendo le tende nella metà campo ospite. Fornasari pesca un fallo al limite, Ottolini pesca il primo palo, ma anche la grande risposta di Raimondi. Quando l'asse Pedrini, Fornasari trova spazio anche in verticale, un fuorigioco ferma tutto e lo 0-0 rimane inchiodato. Sembra una maledizione per i pievesi, che continuano a collezionare punizioni dalla trequarti senza esito. Serve però un'azione manovrata per sbloccare la situazione al novantesimo esatto. Gardani fa filtrare per Franzini, che si è allargato e ha aperto la difesa. Cross dall'altro lato dell'area. Scalmana tira ingenuamente la maglia di Pedrini, che forse si lascia andare. Il rigore suscita tante proteste, ma Pedrini lo mette dentro con freddezza. E poco dopo il bomber raddoppia, punizione battuta rapidamente. Ambrosio fa filtrare per Fornasari, che trova sull'altro palo il numero 11. Domenica, più che mai, ombre del partito.